cimmino finta col sinistro un gol fantastico di cimmino cerca qualcosa arriva dadone col destro è un gol fantastico di dadone esposito fa col sinistro all'incrocio meola un gol meraviglioso nasti per De Luca che prova col destro è un gol fantastico di De Luca va col destro Pirozzi è un gol fantastico di Pirozzi vigna poi il destro del zappa zappino all'incrocio al volo un gol fantastico faccio d'angolo battuto balla per Tonacci ma che gol ha fatto Tonacci chiudete le valigie e andate a casa di Tonacci perché ha messo una perla in cassaforte verso e allunga la tensione come gioiello e chiude qui la partita nonostante la sconfitta una gioia per Cicciopo lignano traversa ferraro sinistro rete ferraro 1 a 0 pronti via simone si coordina e trova un gioiello pazzesco De Simone la palla è lunghissima attraversa tutta l'aria di rigore per poi finire nei piedi di Cuccaro che tenta un pallonetto attenzione a Carlo Cuccaro che ha fatto un gol da Cineteca come la rai come la rai Grazie a tutti.